Buondì, allora con la Mariella sabato pomeriggio siamo andati a farci un giretto a Cremona perché c'è un mio amico che ha un'edicola che praticamente è abbastanza poliedrico e sa soddisfare i gusti delle persone, aiuta tutti da chi ha un euro anche a chi ne ha 50 da spendere al contrario di molti edicolanti che praticamente snobbano quelli che vanno a comprare il giornale che costa un euro oppure la rivista che costa 2,99 euro oppure 1,99 euro in offerta allora gli ho detto guarda tienimi via un paio di modellini per tipo va bene mi ha detto lui siccome che mi conosce bene e praticamente sa che non disdegno a comprare quando allora lui cos'è che ha fatto nel giro di 15 giorni ci è fatto mandare ogni due giorni ci è fatto mandare 2-3 coppie perché che fa io posso ordinartene anche 10 alla volta ma se non ci sono che fa però io magari ogni due giorni me ne faccio mandare due e quando così ne metto anche una fuori da vendere eccetera eccetera e dopo ti chiamo così viene a fare un giretto con la mariella oltretutto ci siamo fermati anche su un ristorantino lì prima di Cremona venendo da Mantova e abbiamo mangiato tutto a base di pesce eh insomma meno male il primo praticamente con la pasta col pesce di mare il secondo a base di pesce di mare in praticamente col sughetto e coi contorni o di patatine oppure di altre cose insomma ecco e via poi siamo andati a Cremona in città e siamo andati a trovare questo mio amico insomma che è Aledicola e io gli avevo detto io ancora una settimana 10 giorni fa guarda che sta uscendo questo qui dei camion americani tiene via un paio di coppie non so una coppia due coppie due tre insomma quello che è va bene poi siccome che io ritiro da lui tante volte tutto quello che non riesce a vendere ho detto piuttosto di darlo indietro al fornitore tu mi telefoni e mi dici quello che hai e io nel limite del tollerabile e del possibile ti passo dentro e compro insomma non compro nel senso materiale del termine cioè nel senso che come tanti bifolchi io ho i soldi no non è quello compro nel senso che siccome che l'edicolante non prende una fortuna nel vendere un modellino o nel vendere un giornale perché prende roba di pochi euro oppure qualche centesimo quindi di conseguenza non vado là a farli pesare che li porto i 10 o 20 euro perché prima di tutto è mortificante per uno che lavora e seconda cosa mi sentirei sminuito io perché calcolo le persone solo in base a quello che riesce a procurarmi e a quanti soldi me lo fa cioè non è giusto ognuno ha diritto di lavorare e di fare il suo piccolo grande medio guadagno bene allora cosa è successo da questo qua questo mio amico che c'è l'edicola vado là ciao Carlo come stai di qui come stai di là la Sirmione come si sta questo di qui questo di là e comincia a tirar fuori buste verdi ne tira fuori una due tre quattro cinque sei e arriva a 14 buste ho detto ma che cazzo stai facendo porca impestata ho detto ma niente Carlo so che tu i primi numeri o questo o quell'altro so che vieni qui eccetera eccetera vabbè allora cosa è successo eccoli qua questi qui sono i camion il primo numero dei camion americani eccoli qua dove sono allora sono due quattro sei otto dieci undici e dov'è il dodicesimo eccolo qua adesso gli ho detto già che hai fatto dodici prendi ancora quattro o cinque facciamo venti vaffanculo e ha detto sì guarda la settimana prossima probabilmente li troverai poi lui ha detto guarda Carlo che io ti ho tenuto un po' di le macchinine della Fiat cinquecento perché qui da noi sono andate a ruba e di conseguenza ne ho nei primi nella prima settimana ne ho ordinati una decina dodici e tre o quattro te le tengo anche per te va bene e poi già che era lì praticamente mi tira fuori due borse con dentro praticamente anche tutte le prime uscite della Lanciarelli uno due tre quattro cinque sei e ho detto già che ci sei che fa sì me ne hanno mandate altre quattro ho detto tienemene via altri due che quando vengo a prendere gli altri camion porto a casa anche quelle tanto alla fine tanto alla fine questi qui dopo costeranno trentacinque euro l'uno e questi qui costeranno 18 euro l'una quindi prima arrivare a 18 euro ne compri quattro capisco che sono tutte quattro uguali però sono quattro Lancia Stratos e qui è sempre una motrice in metallo che se voi andate a comprarla dalla XO la pagate 40-50 euro solo la motrice ecco tutto qua quindi di conseguenza e seconda cosa dopo ogni uno di questi costerà 35 euro adesso costano 9 aspetta un attimo eccolo là dove questo qui che l'ho tirato fuori ecco il coso la vuoto ecco la 9 euro e 90 quindi ogni tre e mezza di questi praticamente ogni sette di questi sette ne compri dal C&O due delle prossime uscite allora io siccome che faccio modellino faccio diorami eccetera 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 me ne sono comprate un po' poi qua siccome che il tronco fa un po' cagare perché si vede che è legno i cari sono due prima provo a verniciarlo con vernici opache e farci in modo da portarlo come se fosse un vero tronco altrimenti io non ho mica problemi basta che vado in giardino un tronchetto da 3 cm lo taglio via 25 cm parte per parte tagliato tiro via quelli di plastica ci metto quello vero e per me va bene poi a Cremona già che siamo andati là siamo passati da 2-3 negozi perché sia a Mariella sia sottoscritto piacciono i libri siamo passati da Mondadori siamo passati da da come si chiama il punto come si chiama raggiunti al punto e siamo passati anche dal libraccio e là c'erano un po' di dischi che potevano interessarmi belli perfetti immacolati a che roba Santana guardate guardate che roba nuovi 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 di stecca perché le copertine sono ultra belle ultra immacolate poi c'è un mio amico di vecchia conoscenza che io l'ho visto anche lo conosco Astor Piazzolla che l'ho visto a Ferrara anche questo è nuovo di stecca Addios Nonigno e qui c'è anche Libertango la numero 4 eccolo qua anche questo se voi guardate è lindo lustro e immacolato tranne che tranne che un po' di polvere perché avendoli aperti la polvigina dell'aria ci sta insomma ecco poi c'è una Lorena McKennett The Visit che sarebbe l'album più bello insieme a The Mesh and The Mirror praticamente sempre su di lei anche questo nuovo di stecchetta proprio nuovo col codice tutto proprio adacaroba vediamolo dentro eccolo qua e dulcis infundus un'altra mia vecchissima amica che che serve la sorella di Marie Brennan quella dei Clannad e cioè la signora Enia e questa qui c'è un leggero frisino qua ma che cazzo me ne frega tanto io chi mi conosce e chi segue il mio video sa che io in settembre dell'anno scorso ho comprato un paio di scatoloni così con 300 custodie di queste qua nuove sia semplici sia doppie sia basse sia con l'interno in metacrilato trasparente e sia con l'interno nero quello il porta cd eccolo qua anche questo nuovo di stecca immacolato tranne che quel frisino lì allora il libraccio cos'è che fa li dà via a 4 euro cada uno però se ne compri 4 sono 10 euro ora la mariera ha detto Carlo questi 4 li regalo io 10 euro allora Santana Astor Piazzolla Enia e Lorena Mckenit che se voi andate a comprare questi signori qua li pagate al prezzo pieno adesso a parte che questi qua sono nuovi perché le hanno ha detto che le hanno ritirati da una persona che li aveva in casa e che aveva chiuso l'ambiente ancora 4-5 anni fa di fatti questi qua sono tutti anni 90 come dischi questo qui è bello perché c'è anche Corazone Spinado Africa Bamba Put Your Life Fire e tutto quanto e sono 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 tutte canzoni molto gradevoli comunque fatto sta che siamo andati a Cremona città ovviamente ci siamo fatti una bella mangiatina di pesce di mare primo secondo con bel bianchetto frizzante bello fresco fresco una bella bottiglia di acqua minerale FUJI in bottiglia di vetro mica di plastica due caffettini e abbiamo pagato il giusto che si deve pagare quando si fanno quei pranzetti a base di pesce se fossimo stati qua sul lago di Garda Sirmione Peschiera Desenzano eccetera eccetera meno di 80 100 euro in due 40 anzi col cacchio perché una bella bottiglia di bianco già quella lì costa 25 30 euro due primi a base di pesce due secondi a base di pesce coperto una roba l'altra acqua minerale caffè e tutto saremmo andati incontro di 65 70 euro a testa ma che ci fosse andata anche bene quindi 120 150 euro abbiamo speso meno della metà ecco bene allora un po' di modellini dopo ci sarà il solito scalmanato mentale che dice cosa te ne fai di tutti questi allora già il fatto di prendere una vetrinetta in plexiglass svuota la pagate 2 euro 2 euro e 50 oltretutto questi qua ogni ogni basetta è praticamente incisa come se fosse una pista la partenza di una pista da rally la partenza madre insomma ecco seconda cosa la lancia stratos come la lancia delta e tutte quelle signore lì lasciamo che passi il primo numero facciamo in maniera che siamo un pochino avanti eccetera eccetera la macchinina si può vendere tranquillamente a 20 euro 25 come questi camion qua d'epoca che io li ho già visti a 35 euro su youtube non su youtube su ebay e da qualche altra parte allora ci sono persone che per avere un modellino diventano deficienti perché non perché siano incapaci ma perché magari ci sono edicole che ne hanno uno perché il lancio pubblicitario è di uno e arriva uno e se lo porta via ovviamente poi arrivate voi che giustamente avete sentito la pubblicità in televisione andate là ci rimanete anche male come ci sono rimasto male io tante volte perché giustamente non è che siete solo voi nella graduatoria di chi ci rimane male ci sono anch'io a volte quindi cos'è che è successo che il mio amico mi fa Carlo guarda lascia passare una settimana 10-15 giorni 12 giorni che io nel frattempo ogni giorno ne ordina 2 o 3 o 4 eccetera eccetera e quando arrivo a 10-12 8 pezzi 12 più questi qui ne ordinava 2 di questi e 2 di questi 2 di quelli e 2 di questi 2 di quelli e 2 di questi ecco allora cos'è che ho fatto io ho portato a casa tanti camioncini e gli ho lasciato là un po' di questi della della lancia perché so che tanti fanno collezioni di 1,43 anche giusto che sia così mentre invece i signori qua i camion americani insomma non ho resistito alla tentazione di portarmi a casa tutti gli ho lasciato là giusto uno per fare vetrina insomma per mettere fuori dove c'è la vetrata del negozio praticamente gli ho telefonato oggi e gli ho detto ascolta guarda domani ne ordini altri 3 o 4 quello che è e quello in vetrina se non riesci a venderlo entro domani dopo domani lo metti là che li porto via tutti i 5 così almeno facciamo una ventina di pezzi anche perché dopo con 20 pezzi di questi ne compri 4 che costeranno 35 euro l'uno perché 35 35 fa 70 più altri 35 35 fa 150 e ne porti a casa 4 qui ne porti a casa un bel po' di più con questi soldi capisco che saranno tutti uguali ma io dopo a questi qua li faccio il mio bel rimorchio utilizzando la ralliera la rulliera li faccio l'asse fatto bene in legno eccetera eccetera incompensato di balsa da 2 mm con le spondine o faccio il piano e ci metto sopra un trasporto con una gru o che sia un trasporto mezzi agricoli o un trasporto di altre cose insomma oppure li faccio l'autobotte basta solo ricavarlo da una lattina di quelle da 66 cc perché ci sono le lattine da bere anche della birra che sono 66 cc che sono esattamente più alte di 6-7 cm rispetto alle altre e li faccio il rimorchio praticamente grato via la lattina il culo dietro dove chiuso lo lascio dietro dove c'è il culo davanti li faccio io un tappino vernicio di rosso di giallo o di verde o di che cacchio che voglio io e dopo li metto sopra l'etichetta della che ne so io della mobile oil o qualche altro o anche magari farlo cromato come trasporto latte quindi di conseguenza la motrice di base mi può servire per una serie infinita di accessoriame bene allora ragazzi ci siamo visti qua un pochino di roba allora io quando vado in quei posti lì cos'è che succede che quando vai là non devi rompere i coglioni sì ma guarda con tutto questo io ti do oppure farlo schizzinoso per un modellino perché una volta ti tratta bene due volte ti sopporta ti sopporta e la terza volta ti manda a dar via il culo un negoziante quando vai là se sai di portare a casa 10 modelli che costano 4,99 vuol dire che devi avere in tasca 49 euro 50 euro altrimenti non vai là a comprare 10 modelli è inutile andare là a rompere il cazzo fare i filosofi eccetera eccetera e dopo fare i brillantoni i brillantini i brillantoni e poi portare a casa due modellini dopo aver fatto la sceneggiata televisiva io quando vado là lui mi dice caro ci sono 10 di quelli e 5 di questi benissimo oppure ci sono 6 di quelli e 6 di questi benissimo basta basta leggere quanto è scritto sopra moltiplicare per il quantitativo di uno e per il quantitativo dell'altro si tira la somma e si paga ma non perché ci sono i soldi ma perché a livello collezionistico io i soldi al bar non li spendo al circolino anziani non ci vado spendere i soldi col gratta e vinci non li spendo andare a mangiare le pizze qui sul lago di Garda dove con la Mariela spendi 40 euro per mangiare due pezzi di pane con un cucchiaio di pomodoro sopra praticamente andrà a spendere 20 euro a testa se mi permettete insomma non li spendo piuttosto 50-60 euro andiamo nelle osterie un po' nell'entroterra che mangiamo primo secondo ci beviamo una bella bottiglietta di vino anche sfuso in mezzo cioè siamo andati una volta in una pizzeria non una pizzeria è una locandina piccola locanda dopo Monzambano da quelle parti là un po' all'interno e c'era di fuori che c'erano anche le galline che ti giravano sotto il tavolo e dopo in fondo c'era un cammino all'esterno di quelli fatti i mattoni e c'era il cuoco che faceva la grigliattina serviti con la tavola con la tovaglia con i piattini in porcellana e tutto quanto abbiamo pagato 19 euro a testa il primo è stato un bel brodino a base di come si chiama quella di trippe il secondo polentina fresca con salsiccia fatta di fronte a te una bella bottiglia di lambrusco una bella bottiglia di acqua minerale due caffettini corretti abbiamo speso circa 40 euro 42 euro in due perché devo dare quei soldi lì a una pizzeria che ti porta in definitiva ti porta un pezzo di pane spalmato un cucchiaio di morta di sugo di pomodoro e ci butta sopra 4 pezzettini di formaggio qui sul lago di Garda ecco e in più dopo ti danno due bicchierini di quelli piccolini di vino Lugana che neanche vedi quello che c'è dentro 22 euro a testa 45 euro ma va a fanculo scusate un attimo quindi io non spendo soldi in nessun'altra maniera tranne che modellismo dopo c'è che col tempo anche se io questi qua li voglio rivendere anche prendendo anche i miei soldi io li riprendo come, quando e perché voglio basta tutto qua niente io questo video qua l'ho messo solo che con l'i-fi non c'è niente a che vedere perché giustamente ora in questi giorni il Mariella ha lavorato in questi giorni trascorsi ieri e l'altro giorno era di riposo e ieri siamo stati a casa tutto a ieri abbiamo curato un po' il giardino abbiamo fatto un po' delle nostre cosine mentre l'altro giorno siamo partiti alle 9 di mattina siamo andati a Cremone siamo stati là fino alle 6 e mezza 7 di sera e basta chiuso e abbiamo fatto ora prima di tutto abbiamo caricato questa roba qua perché siamo andati in macchina al centro perché io andando a GPL basta avere il consenso dell'albergatore o di quello che è tu entri solo per giustamente per meri scopi commerciali di carico e scarico la star che è stata registrata che tanto ormai la conoscono perché sono entrato 50 volte a Cremona quando entro prendo quello che devo prendere dal mio amico edicolante perché non è che ora se devo andare là per un modellino 2 vado in giro con una borsina e non me ne frega niente ma con due scatoloni pieni di roba insomma e due o tre borsine se mi permettete insomma non era proprio il caso di girare per Cremona con tutta questa roba qua quindi sono entrati in macchina caricato quello che dovevo caricare portato la macchina al parcheggio e dopo siamo andati a Cremona e fino alle 6 e mezza un quarto alle 7 di sera ci siamo sparazzati tutta Cremona con il pranzo come avevo detto nel bel mezzo niente l'unica cosa che riguarda l'audiofilia sono esattamente questi dischetti che sono nuovi 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 di stecca questi qua non sono mai stati ascoltati da nessuno li ho ascoltati io a casa che e van benissimo lo so che vanno bene ecco e Enia adesso questo segnetto qua non me ne frega niente perché domani dopo domani apro lo scatolone tiro fuori 2-3 custodie e me le metto sempre qua diciamo come scorta perché quando quando mi capita un cd che ha la custodia sfrisata brutta o quello prendo usato tac li butto via la custodia rotta e metto su quella nuova ora questa qui mi dispiace perché c'è solo quel segnetto lì ma tecnicamente parlando è nuovo insomma praticamente è stato urtato probabilmente niente 10 euro tutti i 4 oh ragazzi io ho fatto questo video qui un po' alla vaffanbagno anche perché giustamente tanto per far vedere che ci sono cioè va bene che magari qualcuno non gli interesserà molto che io esista però insomma cosa ci volete fare ognuno ognuno lascia la sua ombra ogni piantina fa la sua ombra anche se è rinsecchita anche se è un paletto scarnito proietta sempre un'ombra e quell'ombra lì fa sempre qualcosa ciao a tutti va grazie a tutti